Benvenuti e bentornati all'ascolto dei miei audio sull'attualità. In questo audio vi parlo di Marco Ferrazzano. Ve ne parlo con i brividi a pelle perché questo giovane di appena 29 anni, dopo essere scomparso da casa, è stato ritrovato sui binari della ferrovia privo di vita. Secondo la questura Marco si sarebbe tolto la vita e il suicidio sarebbe stato determinato da un furto che aveva subito. Il giovane, secondo gli investigatori, era vittima di atti di bullismo, ma non è soltanto secondo gli investigatori. Ci sono i racconti della famiglia e le denunce dei genitori che attestano di quanto forte e perpetua fosse la violenza nei suoi confronti da parte di un gruppo di giovani tra i 21 e i 24 anni, già noti alle forze dell'ordine. Il caso del telefono è stato praticamente l'ultimo che ha portato Marco all'esasperazione. Le indagini infatti sono scattate dalla denuncia del furto del cellulare presentata il 22 gennaio dalla vittima e dalla successiva denuncia di allontanamento di quest'ultima dalla propria abitazione presentata dai familiari nella stessa giornata. Ferrazzano aveva dichiarato che nella mattina del 21 gennaio, mentre era nei pressi del mercato rionale a Foggia, era stato avvicinato da due ragazzi su uno scooter che gli chiedevano di poter effettuare una chiamata con il suo cellulare. Marco non avrebbe voluto accettare, ma temendo di percussioni avrebbe consegnato il telefono a uno dei ragazzi. Alla richiesta di restituzione i due si sarebbero allontanati col suo cellulare e il 29enne, nel tentativo di riappropriarsi del telefono, ha iniziato a rincorrerli e è caduto poi a terra procurandosi qualche scoriazione. Nel pomeriggio del 23 la madre del giovane denunciò alla sezione di polizia ferroviaria di Foggia la scomparsa del figlio, avvenuta nel pomeriggio del giorno precedente, specificando che il cellulare rubato continuava a squillare senza risposta e precisando che il figlio abitualmente faceva rientro a casa intorno alle 20 e 30. Da anni il giovane soffriva di depressione e schizofrenia. Domandiamoci come mai, domandiamoci come mai se un ragazzo viene preso di mira in continuazione da un gruppo di bulli possa cadere in una depressione. Domandiamoci cosa fa la scuola, domandiamoci cosa fa la società e cosa fa la famiglia quando si trovano ad avere dei figli o degli studenti che sono dei bulli. Cosa fanno? Niente, non fanno niente, perché la vittima rimane vittima, vi rimane deriso e rimane comunque nell'oscurità. Mentre quelli che si comportano con violenza, con atteggiamenti aggressivi, i bulli, sono protetti, sono protetti da tanti, sono protetti da troppi ed è l'ora di finirla perché queste persone, questi ragazzi che si divertono nel procurare sofferenza ad altri, sono loro stessi malati, sono i primi ad essere carenti d'affetto, avere delle problematiche che già spesso vengono fuori nell'età dell'infanzia. Già quando da piccoli a scuola iniziano ad avere degli atteggiamenti di sovravaricazione diciamo su altri, su altri bambini, è l'ora di finirla, di passare sopra a questi comportamenti. Ci devono essere delle leggi severe e delle pene severe per chi manca di rispetto ad altri individui perché ognuno di noi, ogni ragazzo che ha più o meno fragilità, che può essere più o meno intelligente, ha comunque il diritto di avere un proprio spazio e di essere rispettato. Io mi vergognerei tanto a essere genitore di questi ragazzi che fanno parte di questo gruppo e che hanno portato alla morte di Marco. Mi dispiace per la famiglia di lui che ha subito questo grande lutto e trovo ingiusto che si continua ad assistere sempre troppo spesso a casi di violenza che sono protetti dal mondo degli adulti. Vi ringrazio dell'ascolto e vi invito a lasciare un like se vi piace il contenuto e ad iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati.